E' vero una volta che tu nel guardare Panariello in tv che ti imitava lo hai scambiato per te? Allora è vero? Era presto per un geriatra e tardi per uno psichiatra. Io stavo in Bersiglia proprio, accendo questa televisione Tele Bersiglia e mi vedo su sta carrozzella con uno che mi intervistava, poi vengo a sapere che era Pieraccioni, Leonardo, sì. E dico ma quando cazzo l'ho fatta? Ma guarda. Arrivato il cameriere mi fa, mi guarda e cercava in giro, sto parlando da solo, scusi eh. Dopo un quarto d'ora, per un cattivo sviluppo da parte di Panariello che si è rivelato, ho detto ma quello non so io, però è stato imbarazzante e mi ha messo l'ansia perché dico ma è possibile che non mi ricordo una cosa così? Grazie. 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 Grazie.